Signor Costantini ti sei dichiarato molto soddisfatto per il lavoro a parte tua ma soprattutto dei tuoi uomini, dei funzionali, dei dirigenti e della segreteria per questo risultato raggiunto, che tu ritieni sia molto importante aver presentato l'approvazione di questo bilancio nei termini, cioè per la prima volta entro la fine dell'anno. Sì, è un risultato storico per il Comune di Giulianova, la soddisfazione è tantissima, prima volta dopo 22 anni si approva il bilancio entro il 31-12, secondo Comune a doppio turno della Regione Abruzzo a farlo, non ci sono aumenti, zero aumenti, siamo un'amministrazione che ha gettato veramente il cuore oltre l'ostacolo, in sei mesi ha riportato dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti, molti tangibili, lavori pubblici, eventi, manifestazioni, asfalti, è il bilancio che per la prima volta ci permetterà di fare cosa? Uno, di non andare in esercizio provvisorio, quindi dal primo di gennaio avremo un anno pieno per lavorare e per fare progetti e per cercare di realizzare i nostri sogni per la città. E un'altra cosa molto importante è fare 22 assunzioni al Comune di Giulianova, cosa che non avremmo potuto fare se non approvamo il bilancio. Devo ringraziare gli uffici che hanno lavorato giorno e notte, devo ringraziare il dirigente, l'assessore, l'aggiunta, i consigli di maggioranza tutti, abbiamo passato le feste in Comune, ma se questo vuol dire dare una buona amministrazione per la città di Giulianova siamo contenti di averlo fatto e oggi, ripeto, è un risultato strepitoso, unico, ci sono messaggi di amministratori dei comuni di Mitrofi, di destra e di sinistra, che si complimentano. Il capogruppo, il genio governante Alvoretti, ha detto che però non avete commentato ma non avete diminuito le tasse, cosa che loro, in caso di amministrazione, avrebbero fatto. Gliel'abbiamo già spiegato in Consiglio Comunale, quindi gli abbiamo già spiegato che in sei mesi era impossibile mantenere i servizi che abbiamo, abbassando le tasse, noi non abbiamo aumentato nulla, abbiamo lasciato tutto com'era, però abbiamo dato prospettiva alla città, abbiamo tracciato un solco e siamo riusciti, ripeto, dopo 22 anni, ogni tanto qualcuno dovrebbe dire bravi, bravi perché avete portato la più bella mossa ad Abruzzo, lo dice l'assessore Mauro Febo, la mostra di Leonardo, bravi perché il Palatenda ha visto già 20.000 persone alternarsi lì dentro, bravi perché avete asfaltato tutte le vie primarie di Giulianova, gli uffici ci comunicano che l'asfalto che è stato buttato a Giulianova negli ultimi tre mesi equivale a quello che è stato buttato negli ultimi 16 anni. Qualcuno dovrebbe dire bravi, qualcuno continua a non dirlo, ne prendiamo atto, però l'Aquila e Giulianova sono gli unici comuni che non andano in esercizio provvisorio. A proposito dell'Atari, il giorno dovuto hai detto che lavorerete con esperti per tentare di abbassarlo. L'Atari noi vogliamo mantenere un servizio di altissima qualità a costi più bassi, e quindi noi sappiamo che è possibile e bisogna lavorare sull'appalto. Quando qualcuno nelle posizioni fa il gioco furbo, deve capire che purtroppo poi ci sono le carte. Noi vogliamo cambiare il bando, vogliamo fare un bando adeguato, perché il giorno deve essere pulita, noi siamo bravi a riciclare, ma dobbiamo risparmiare tanti soldi. Sappiamo che si può fare, ci affideremo ai migliori esperti del settore per fare un bando che ci permette di garantire queste due cose, qualità del servizio, pulizia e costi contenuti. La polemica è finale sul MAS. Hai detto che sono state cene di autofinanziamento, puoi sapere come sono state fatte nel 2016 le assunzioni, dicendo addirittura che si potrebbe mandare tutta la procura. Io ho fatto una richiesta che nelle mani del Presidente della piccola opera Caritas e aspetto che questa richiesta, che è stata fatta oltretutto nel mese di fine ottobre, se non ricordo male, mi arrivi con la rendicontazione di come sono state fatte le assunzioni, di come sono stati spesi i denari pubblici e queste cene di autofinanziamento un mese dallo scioglimento del MAS, non per volere nostro, ma per volere della piccola opera Caritas, in realtà per volere della riforma del terzo settore. Vogliamo sapere come sono state spesi i denari pubblici. Io l'ho detto chiaramente, a chiare lettere, e quindi mi aspetto che mi vengono date delle spiegazioni. Se poi le spiegazioni non mi vengono date, io faccio l'amministratore della cosa pubblica e devo chiedere spiegazioni a chi sta sopra di me. Un'ultima domanda che riguarda il palazzetto e lo sport. Non va bene quella proposta che sta nell'ambito vicino a Sibiglia, insomma, quell'area lì. Ne vorrete uno da 4-5 mila posti. Ma c'è un'idea, un posto, un'idea? No, quando le opposizioni fanno un lavoro costruttivo, noi raccogliamo. Quando fanno istruzionismo a tutti i costi, senza portare nulla di buono ai cittadini, naturalmente rispondiamo e rispondiamo in maniera, con toni anche alti in Consiglio Comunale. Sul discorso del palazzetto, il cittadino governante ha fatto una proposta, in tempi non sospetti, che la maggioranza ha deciso di accogliere. Abbiamo pensato che un palazzetto per 800 posti non serve a nessuno, meglio monetizzare, quindi fare un capitolo di spesa dedicato, per la realizzazione di un palazzetto da 4-5 mila posti. Vedete, il palatente è servito perché se no non sapevamo dove mettere le persone. Se noi riusciamo ad avere da qui ai posti 2-3 anni un palazzetto con una capienza adeguata, quello che era previsto ne prevedeva solo 800, comprendete bene che diamo una prospettiva alla città diversa. Noi facciamo gli amministratori, non oggi per domani, come è stato fatto purtroppo per tanti anni, ma pensiamo di lasciare qualcosa alle future generazioni.